Doppia seduta ieri per l'Agropoli con l'allenamento pomeridiano che si è protratto fino a notte. Sala video nel primo pomeriggio in cui si sono analizzati gli errori commessi nella gara di Sorrento per le eventuali correzioni. Poi la squadra si è spostata sul campo torre dove, come detto, è rimasta fino a sera. Domenica si gioca con il Due Torri, squadra in lotta per la salvezza, e rimanendo sempre meno giornate alla fine del campionato, sia per le posizioni di vertice sia per evitare i play-out, i punti contano molto, indi per cui la squadra siciliana è da prendere con le molle. Ne è consapevole lo stesso mister Rigoli che ieri ha più volte richiamato alla concentrazione massima, onde evitare sorprese che a questo punto sarebbero fatali per il prosieguo. Si prevede vita facile per l'Akragas a Montalto, con la squadra calabrese quasi tagliata fuori con i suoi 14 punti dalla lotta salvezza. Più ardua ma comunque alla portata l'impegno del Torrecuso, impegnato a Brolo, con la Tiger, squadra insidiosa anche per la lunga trasferta. La sosta porta di solito delle sorprese, 15 giorni senza giocare non sono pochi, e c'è curiosità per vedere come reagiranno le squadre a questa pausa.